Al tempo del covid anche i tabaccai piangono. Il titolo è soprattutto una notizia, peraltro prevedibile. Nonostante siano tra le poche attività che in questa fase 1 dell'emergenza hanno potuto tenere aperti i battenti, le tabaccherie hanno registrato un drastico calo delle vendite. La sospensione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei giochi del lotto e del super enalotto, allo scopo di evitare assembramenti nei negozi, ha assestato infatti un duro colpo alle entrate di tali attività. Il calo, ci dice un esercente a Isernia, è legato soprattutto alla vendita dei prodotti secondari, di quelli cioè che il cliente compra di impulso dopo l'acquisto della merce per cui si era recato nel negozio. Le vendite sono un po' crollate perché manca proprio l'affluenza, manca la gente. C'è un sensibile calo della presenza proprio all'interno della tabaccheria. Succede anche sulla vendita dei prodotti secondari che per noi sono invece i più importanti. C'è succede che viene il cliente, piglia una strecca e per 10 giorni non si vede. Prima invece magari pigliamo un pacchetto per volta e ci aggiungeva qualche altra cosa vicino. È venuto a mancare proprio questo tipo di vendita. Abbattuto di circa il 50% il volume d'affari anche dell'unico gioco attualmente attivo, il gratta e vinci. È crollato, il gratta e vinci è semplicemente crollato. È meno 52%. Purtroppo causa virus c'è stato un calo, un calo di presenze. Infatti come potete vedere il negozio in questo momento è vuoto. Tra l'altro poi si crea anche un forte disagio per i pochi clienti che arrivano, dato che bisogna farli entrare uno alla volta. Non parliamo poi delle nostre vendite, in quanto sì il tabacco certamente viene venduto, però è stato penalizzato tutto il settore giochi. I clienti ci chiedono, però ovviamente non abbiamo notizie in merito per ora, almeno per ora la federazione non ci ha aggiornato. Ci auguriamo che al più presto tutto ciò passi e sia solo un brutto ricordo. Siamo quasi della metà e questo è un po' grave considerando che abbiamo dovuto mettere anche l'impiegato a riposo in cassa integrazione, proprio perché il lavoro è calato notevolmente. e quindi io e il mio marito gestiamo al meglio quello che ovviamente si può.